buongiorno 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 grazie mille per essere qui con noi grazie per aver accettato l'invito grazie a voi per l'invito allora eh quando abbiamo annunciato la sua presenza subito hanno detto sono proprio sono proprio curioso di sentire un po cosa hanno da dire i comunisti questa è stata la reazione e allora parto con parto con il chiedere insomma di spiegare un attimino quali sono le differenze perché noi abbiamo invitato spesso Marco Rizzo il segretario del partito comunista vorrei appunto che i ragazzi che ci seguono capiscano che ci sono varie sfaccettature varie differenze no tra i vari partiti che ci sono in Italia che identificano come comunisti quindi rifondazione potere al popolo sinistra italiana o comunque eccetera no ma guarda mi fai una domanda difficilissima perché ci vorrebbero ore io preferirei che ci fosse un grande una grande aggregazione della sinistra anticapitalista che forse avrebbe anche più forza insomma quindi per quanto ci riguarda probabilmente per quanto riguarda Rizzo ha fatto un partito dopo essere uscito da rifondazione nel novantotto rifondazione era la casa comune di tutti i comunisti che si opposero allo scioglimento del grande partito comunista italiano nel mille novecentonovantuno e e dentro la quale c'erano anche tante compagni e compagni che avevano partecipato a formazioni di sinistra e comunista e poste sessantotto diciamo diverse dal partito comunista italiano nel novantotto c'è stata una scissione a cui partecipò Rizzo per sostenere il centro-sinistra poi Rizzo si è scisso pure da quella scissione ha fatto un suo partito adesso ci ha messo anche il nome eh che ha molte differenze con noi per esempio eh noi siamo sempre stati i sostenitori di una visione democratica e libertaria del comunismo e del socialismo siamo sempre stati i sostenitori di movimenti di liberazione lgbtq e consideriamo il femminismo una parte delle culture eh fondamentali della sinistra un movimento una rivoluzione fondamentale dell'ultimo eh secolo siamo antistalinisti cioè non abbiamo una visione del eh comunismo autoritaria poi ovviamente studiamo perché una grande rivoluzione sia finita in quella maniera negli anni trenta ma appunto non abbiamo il mito eh di Stalin e abbiamo una visione libertaria poi noi non strizziamo l'occhio alla destra né sulle sui diritti eh lgbtq e neanche sull'immigrazione eh noi siamo internazionalisti antirazzisti eh pensiamo che eh l'essenza del comunismo sia nella nello slogan che conclude il manifesto di Marx proletari di tutto il mondo unitevi quelli che stanno sui barconi per eh noi non sono dei nemici che invadono l'Italia e e consideriamo eh i lavoratori stranieri che sono in Italia parte della classe lavoratrice italiana cioè Adil il compagno che è stato ammazzato durante lo sciopero del Sicobas poco tempo fa e che ricorderete o i quattro operai pakistani pestati con max da baseball l'altro ieri per noi fanno parte della classe operaia italiana e quindi da questo punto di vista anche questo eh ci differenzia eh notevolmente potrei continuare a lungo ma insomma non vorrei diventare un entomologo mi piacerebbe più discutere di cosa pensiamo. È stato è stato chiaro quindi eh da un punto di vista dei diritti civili sociali insomma eh siete molto. Noi non li contrapponiamo. Esatto. Per essere chiaro noi non li contrapponiamo. E su questo siamo assolutamente d'accordo insomma qui trova persone insomma favorevoli assolutamente che hanno portato avanti anche queste battaglie. Mentre da un punto di vista economico eh voi vi definite quindi anticapitalisti. Beh certo non può esistere una sinistra che non sia anticapitalista. Ecco però qual è eh qui poi lascerò la parola a Umberto magari per una domanda più tecnica che noi ogni volta che ospitiamo persone che si definiscono anticapitaliste ci chiediamo sempre se esista al momento un'alternativa valida al capitalismo come si può costruire cosa comporterebbe? Guarda devo dire vi devo fare i complimenti perché è la migliore intervista finora che abbiamo avuto da quando sono segretario di rifondazione. Hai fatto una giusta domanda. Eh uno dei problemi della nostra epoca è che eh come ha detto un noto filosofo è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del superamento del capitalismo. Questo deriva dal fatto che si immagina che l'unica eh alternativa al capitalismo sia stata quella sperimentata dell'unione sovietica nei paesi dell'Europa orientale o in Cina. Eh in realtà la eh la cosa è più complessa perché Karl Marx non aveva quando ha scritto il manifesto comunista del capitale non aveva nessun modello eh di società già pronto. Ha spiegato alle lavoratrici e ai lavoratori e ai poveri della terra ricordo che all'epoca non c'era neanche il diritto di voto per tutti. Molti lo dimenticano eh gran parte della popolazione anche in Europa viveva in condizioni di sfruttamento peggiori di quelle di oggi nel terzo mondo. Marx ha spiegato perché non funzionava il capitalismo che la società è organizzata in classi e che forse al posto di un modo di produzione che ha come logica di fondo l'accumulazione di capitale dovremmo arrivare a una forma di società in cui le cittadine e i cittadini si autoregolano eh e Marx guardate diceva non solo per evitare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo ma anche per evitare lo sfruttamento eh della natura e ricostruire un ricambio organico con la natura che il capitalismo sta distruggendo parole oserei dire profetiche al tempo del mutamento climatico. Noi pensiamo che eh si debba immaginare una società in cui eh il lo spazio del capitalismo si vada restringendo e in cui si affermino invece eh altre scale di priorità. Faccio degli esempi eh ma non so se voi avete avuto il covid però qualche volta avrete avuto qualche malanno. Entrate in un ospedale giusto? Eh chi vi cura? Che ne so se avviene un infarto e vi devono aprire il cuore eccetera ma chi lo fa? Eh non lo fa un una istituzione pubblica, un'organizzazione pubblica. Noi siamo abituati a pensare che non possiamo organizzare la società in maniera democratica e invece la via da trovare sia per affermare una per fermare la catastrofe ambientale e sia anche per fermare la corsa verso il basso eh nei diritti sociali. Ora ovviamente vanno studiate tutte le forme che già si sono sviluppate nel corso del eh del novecento. Eh vi ricordo che il miracolo italiano in Italia, il miracolo economico dopo la guerra l'abbiamo fatto avendo tutte banche pubbliche, oggi sono tutte eh privatizzate, avendo tantissime imprese pubbliche perché non c'era in Italia un capitalismo che intervenisse nei settori strategici, quindi non c'è un modello astratto da imporre alla società. Lottando per cambiare la società lo costruiamo e lo immaginiamo tutti insieme. Non vado nel dettaglio ma è proprio la rinuncia a questa idea di costruire un'alternativa che poi rende le persone impotenti rispetto a tutte le ingiustizie che ci sono. Certo. Poi dopo più avanti torniamo sul discorso magari anche di quello che è successo a Forza Nuova. Voglio anche un suo parere anche sul sul fatto che siete stati cioè alcuni partiti magari di estrema sinistra sono stati accostati a Forza Nuova quindi c'è chi vorrebbe abolire in generale tutti gli estremisti. Poi poi ci torniamo. Posso precisare una cosa eh non mi considero un estremista anzi vorrei precisare che noi siamo uno dei pochissimi partiti eh che è è impegnato e si riconosce nella attuazione della Costituzione. Qualificare i comunisti in Italia come estremisti quando in calce alla Costituzione c'è la firma di Umberto Terracini che è il detenuto politico che ha fatto più anni in carcere sotto il fascismo e che era talmente preveggente da essere anche antistalinista negli anni trenta per un periodo essere eh messo fuori dal partito quando insomma dominava la logica di Stalin eh mostra che insomma dare degli estremisti a noi mi sembra assolutamente eh fuori della grazia di Dio. Eh i comunisti hanno fondato questa repubblica mentre eh i proprietari dei giornali e delle tv, gli industriali, i finanzieri, i latifondisti agrari del sud finanziavano eh il fascismo per cancellare il movimento operaio. Mi sembra che viviamo nell'epoca degli estremisti di centro invece di neoliberisti che non si riconoscono nella Costituzione e che con le loro politiche antipopolari hanno fatto risorgere il fascismo che in Italia era stato sconfitto. Io vorrei capire visto avevo altre domande visto quello che ho sentito prima e onestamente magari se vogliamo dopo ci confrontiamo anche su questo tema. Onestamente non ho capito visto che tante volte mi danno delle definizioni un po' così arbitrarie un po' anche che non riesco a capire eh quindi chiedo gentilmente una definizione di neoliberismo e che correlazione vede tra neoliberismo, fascismo o neofascismo secondo del del punto di vista di Maurizio. Quindi cioè cos'è che secondo Maurizio ha portato al neoliberismo se esiste in Italia, se sì da quando esiste e soprattutto com'è che scatena il il fascismo. Grazie. Allora ti do una definizione di neoliberismo da un verso del il poetale Ginzberg, il maestro della big generation nel 1980 fece un poema canzone con i clash che conoscerete e Ginzberg era il momento in cui Ronald Reagan diventava presidente degli Stati Uniti e Ginzberg, capitale, diceva I don't like the dictatorship of the rich, non mi piace la dittatura dei ricchi. Se dovessi riassumere il senso del neoliberismo è questo, cioè un grande progetto di trasformazione del capitalismo che è partito negli anni settanta per contrastare la grande forza che avevano assunto i movimenti dei lavoratori nelle nostre democrazie occidentali. Come sapete ancora adesso noi viviamo di rendita di diritti conquistati a partire dal secondo dopoguerra soprattutto e in particolare negli anni sessanta-settanta. avevamo raggiunto, avevamo stati democratici in cui le forze del movimento operario e della sinistra avevano un peso enorme che come nella nostra Costituzione avevano assunto obiettivi di tipo sociale, cioè lo Stato smetteva di essere soltanto amministratore degli interessi capitalistici per fare degli esempi e tutti gli Stati perseguivano politiche di piena occupazione. Se vuoi un esempio di neoliberismo nessuno ne parla mai, ma invece l'indice ottimale di disoccupazione per l'Unione Europea per un paese come l'Italia è intorno al 10%. Si chiama Nabru, lo trovate facilmente in rete, non se ne parla mai. Perché l'Unione Europea persegue un indice di disoccupazione così alto e non la piena occupazione per tenere bassi salari e quindi bassa inflazione? Potrei continuare all'infinito sostanzialmente la sostituzione della logica del mercato e dell'impresa e del profitto agli obiettivi sociali che si erano affermati dopo la Seconda Guerra Mondiale in un compromesso conflittuale tra capitale e lavoro che ci aveva visto progredire. Vuoi un esempio di pensatore neoliberista? Un nome? Mario Draghi. Mario Draghi qualche anno fa, anche se ha studiato... Perdonami un attimo, ti fermo. Cosa c'entra Reagan con Draghi? Beh, ti faccio un esempio banalissimo. Magari torniamo anche sull'occupazione e inflazione. Sì, sì, sì. Cosa c'entra Reagan con Draghi? Beh, Mario Draghi qualche anno fa ci ha spiegato che il modello sociale europeo non ce lo potevamo permettere. Che andava smantellato, parole sue, non mie. Ma d'altronde è quello che ha perseguito l'Unione Europea in questi anni, da molti anni a questa volta. Da quando è nata? Dal trattato di Maastricht in poi. Reagan e Thatcher tra il 78 e l'80, come racconta in un bel libro che vi consiglio, spero che l'abbiate già letto, La breve storia del neoliberismo di David Harvey. Reagan e Thatcher avviarono questa onda neoliberista che in Italia si è affermata a partire dagli anni 90 con il sostanziale smantellamento del ruolo del pubblico, politiche di tagli e di privatizzazione di cui uno, come Draghi, è stato uno dei principali interpreti e protagonisti. Io credo che il nesso sia abbastanza chiaro, anche se purtroppo leggendo i giornali italiani non emerge mai. Anzi, se uno legge i giornali italiani accade, ma non solo in Italia, anche negli Stati Uniti, tutti negano che esista il neoliberismo. È rarissimo incontrare qualcuno che dica io sono un neoliberista, perché ufficialmente tutti gli dicono di essere per l'occupazione, per i diritti del lavoro, per il sociale, anche adesso sono diventati tutti ambientalisti. Però se andiamo a vedere poi le politiche di fondo perseguite, si vede benissimo l'impronta delle politiche neoliberiste che partirono tra Thatcher e Reagan. La precarizzazione del lavoro è una politica neoliberista, la privatizzazione è una politica neoliberista, il taglio della spesa pubblica è una politica neoliberista. La fine del ruolo del pubblico dentro l'economia, pensate un po' che l'Unione Europea sostanzialmente tende a disincentivare il ruolo dello Stato in economia, per questo è puro neoliberismo. Quello europeo ha delle caratteristiche per certi versi diverse da quello nordamericano, perché è molto forte l'impronta della scuola ordoliberista tedesca, però insomma la direzione è sempre la stessa, la compressione dei diritti sociali è il ruolo dello Stato come regolatore del mercato e non come strumento attraverso il quale si interviene direttamente per correggere le distorsioni dell'economia e affermare diritti che si ritengono fondamentali. Non so se sono stato chiaro al riguardo. Chiaro, allora, perdoni perché io vedo un po' di... No, non mi perdone, dammi del tutto. Ok, allora, se vogliamo fare un discorso di questo tipo, secondo me abbiamo citato tre persone che sono completamente diverse l'una dall'altra, però non penso sia uno scontro, però se vogliamo costruire un dialogo costruttivo credo sia utile. Ad esempio, prendiamo Reagan, che tu hai citato, se possiamo darci del tutto. Certo. Ok, tipo Reagan viene citato da molti neoliberisti come uno dei migliori politici della storia, quando invece noi sappiamo perfettamente, se andiamo a vedere i dati, che Reagan in verità ha fatto una marea di misura debito, cioè ha alzato il debito che pesa sulle nuove generazioni. Se invece pensiamo alle politiche di piena occupazione, anche qui bisogna fare dei distinguti, importanti, cioè non è che l'economia non vuole la piena occupazione, semmai vuole mantenere bassa l'inflazione e l'inflazione colpisce i salari reali delle persone, che tra l'altro sono quelli più poveri che vengono colpite dall'inflazione. Cioè, ti spiego, i ricchi, quelli veramente ricchi o comunque quelli più ambienti, possono prendere i loro redditi e sia prenderli come flusso di reddito, cioè prendiamo uno stipendio, come posso prenderlo io, come puoi prenderlo te, oppure possono decidere di prendere una parte finanziaria, cioè in stock option, in azioni e quant'altro. Quando si aumenta l'inflazione, aumenta anche la valutazione di queste operazioni, di queste attività finanziarie, quindi l'inflazione non le colpisce. E invece i più poveri, che appunto non hanno un reddito da poter spendere in ambito finanziario, non possono difendersi in questo modo dall'inflazione. E quindi chi è che ha patrimoni, diciamo mobiliari, cioè pensiamo a una casa, pensiamo semplicemente a un deposito bancario anche di 2000 euro, se c'è un'inflazione al 20% troppo alta, cosa succede? Che tutti gli anni perdi quel 20% e quindi non va bene. Quindi le banche centrali fanno degli annunci di inflazione, cioè dicono o il target al 2% o il target al 3%, ma sono diciamo aspettative, cioè la moneta essendo che è qualcosa che non riusciamo a controllare molto bene, sappiamo che riusciamo a controllarla con le aspettative, quindi cerchiamo di puntare sulle aspettative, quindi nessuno è contrario a una massima occupazione, nessuno è contrario sostanzialmente a distruggere i poveri. Poi invece passando su quanto dici sulla spesa pubblica, taglia la spesa pubblica. Beh in Italia la spesa pubblica a me non sembra mai tagliata, anzi quest'anno addirittura siamo oltre i mille miliardi di spesa pubblica, giusto per fare un parallelismo due anni fa stavamo a 700. Se andiamo a vedere i deficit che sono stati fatti, sono stati fatti tanti deficit, poi se invece tu mi dici la spesa pubblica in Italia era stata annunciata un po' più alta, l'abbiamo tagliata, oppure la spesa pubblica in Italia è inefficiente perché non è allocata su determinati settori, io sono super d'accordo con te, ma davvero uniamoci subito, facciamo anche un partito e portiamo la spesa pubblica dove deve andare, però se invece mi dici che la spesa pubblica in Italia cala, io dico vai a vedere come varia, ma non è nominalmente, realmente, i tassi di crescita, se vogliamo ti fai, te li faccio anche vedere in privato, ma davvero la spesa pubblica non cala in Italia, aumenta e basta, e ti dirò di più, in certe situazioni, in regioni addirittura molto povere, tipo la Calabria, è una regione molto povera, è tragicamente povera, se tu vuoi vedere la spesa pubblica è molto presente, estremamente presente. Ora io non voglio fare la correlazione che se c'è tanta spesa pubblica allora la nazione non cresce, però questi sono tutti trasferimenti che non creano l'incentivo a creare imprese e lavoro, quindi se quella è la definizione di neoliberismo che mi hai dato, qua non c'entra niente con il neoliberismo, non trovi? No, guarda, immagino che tu hai frequentato una delle facoltà italiane di economia perché mi pare che il dibattito, insomma l'orientamento... Ti dirò di più, io sono studente di Anna Maria Grazia Variato, sostenitore della MMT, quindi figurati, quindi cioè io proprio, ragionamenti li ho fatti per i fatti miei, non in università. Ok, facciamo rispondere Maurizio, Maurizio ti faccio rispondere e poi andiamo da un'altra parte, un altro argomento. Sì, allora una questione, primo, il taglio della spesa pubblica per che cosa? E faccio un esempio, Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti d'America sono il paese più ricco del mondo ma non hanno un sistema sanitario nazionale che garantisca un diritto universale di accesso alle cure mediche come c'era l'assistenza sanitaria, come ce l'abbiamo in Europa, una grande conquista che tra l'altro non è antichissima. Io ricordo, perché già distribuivo i primi volantini, che la riforma fu nel 1978, insomma l'istituzione del servizio sanitario nazionale fu una grande conquista della sinistra. Bene, gli Stati Uniti, avendo un sistema privato che esclude dalla sanità, da cose che per noi sono normali, cioè insomma io sono stato male per il Covid, non ho pagato niente a nessuno, nessuno mi ha chiesto niente, sono stato ricoverato e lo Stato ha speso una marea di soldi per curarmi. Gli Stati Uniti spendono per la sanità più dei paesi europei, però non hanno un livello di copertura sanitaria come il nostro, perché? Perché diciamo c'è un sistema sanitario che è il frutto del loro modello neoliberista, che in Europa fortunatamente, almeno in questo campo, abbiamo contenuto anche se continuano da farlo andare avanti a poco a poco. Adesso, il fatto che adesso ci sia molto spesa pubblica è evidente perché in questo momento c'è bisogno per rimettere in moto il capitale e non è che i capitalisti siano sempre contrari alla spesa pubblica. Quando arriva alle imprese gli va benissimo, anzi stanno sempre a mungere. Per esempio sono invece contrari al reddito di cittadinanza che invece secondo noi andrebbe esteso. Ma perché sono contrari al reddito di cittadinanza come spesa pubblica? Perché un reddito di base universale, noi lo vorremmo molto più, con una platea molto più larga di quello attuale, dà alla forza lavoro, cioè a voi che state parlando con me, un potere sul mercato del lavoro che altrimenti non avremmo, non avreste. Perché ovviamente se rischi di non avere di che campare accetti qualsiasi cosa. Se invece hai un minimo di reddito puoi resistere. Faccio un esempio. È solo un esempio delle polemiche recenti di queste settimane, di questi mesi. Lo stesso discorso sul debito. Noi l'abbiamo definita la truffa del debito perché gli Stati, compresa l'Italia, ma l'Italia soprattutto ha rinunciato a poter controllare il proprio debito utilizzando la Banca d'Italia come acquirente dei titoli di ultima istanza e quindi proteggendo il paese dalla speculazione. L'ABC è nata sulla base di trattati che appunto noi definiamo neoliberisti che statutariamente impediscono all'ABC di fare quello che dovrebbe fare normalmente. Tanto è vero che Draghi è diventato un eroe quando a un certo punto è stato costretto a fare quella che dovrebbe essere la normalità, cioè a comprare titoli dagli Stati come sta accadendo anche adesso per consentire appunto un normale andamento dell'economia ed evitare un effetto Grecia a catena. Io concludo dicendo una cosa perché i temi posti sono complessi. Faccio solo un esempio per capirci. Mario Monti, il famoso governo Monti, l'ultimo salvatore della patria, l'ultimo tecnico che risolve tutti i problemi, il governo Monti ha fatto tantissimi tagli ma il risultato finale è stato l'aumento del debito. Siccome chi parlava prima di me studia economia sa bene quali sono le ragioni. Il problema io lo riassumo così. I neoliberisti a mio parere non mettono l'economia e le norme e la forza dello Stato e dei governi al servizio di obiettivi di carattere sociale ma al servizio delle imprese. Peccato che molto spesso in quella direzione non si conseguono sempre gli interessi di tutti. Guarda c'è arrivato persino il Papa che viene ingiustamente accusato di essere comunista quando ha detto che non è che se i miliardari diventano più miliardari poi i soldi sgocciolano giù e diventiamo più ricchi tutti. Ed è questa una riflessione su cui penso tutti dobbiamo riflettere proprio in questo momento anche perché non vorrei che distribuiti per esempio adesso 200 milioni 200 miliardi con il PNRR poi quando ci toccherà ripagarne una buona quota ci si venga a dire che sono stati spesi nell'interesse di tutti. Allora, io volevo passare un po' l'attenzione con una domanda molto più generica che arriva direttamente da mio padre che è un vostro ex elettore caro Maurizio. Magari lo conosci pure, non lo so, si chiama Fabio Grieco, lavora all'Arca di Noè, la cooperativa Arca di Noè, non so se la conosci. Sì, sì. Ok. Mi ha chiesto cosa volete fare da grandi. Guarda, io ormai comincio a farmi vecchio, quindi però... Nel senso, continuare ad andare da soli, a prendere lo 0,000, finire le forze con gli altri partiti piccoli che ci sono, cercare un dialogo con il centrosinistra, quale può essere, diciamo, anche perché io questo te lo chiedo anche a nome di mio padre, perché io credo che la richiesta degli elettori che si ritengono di sinistra si sta, nel senso che la sinistra, magari anche Francesca può dire la sua qui, non è rappresentata al momento dal Partito Democratico, parliamoci chiaro. Il Partito Democratico non rappresenta la sinistra in Italia. Il Partito Democratico è democrazia cristiana, quindi io immagino che se ci fosse un'alternativa al Partito Democratico concreta, magari potreste ottenere un po' di successo, magari già rimuovere, non lo so, la parola comunismo nel 2021, come ha fatto potere al popolo, potrebbe aiutarvi, visto che sulla parola comunismo c'è un demone che vigila fortemente? Ma guarda, prima di tutto sul PD, io credo che sia ottimistico definirlo una democrazia cristiana, in che senso? Che la democrazia cristiana era un partito complesso, popolare, che certo aveva doveva tenere insieme per tanti anni il blocco, diciamo, anticomunista e quindi ovviamente teneva molto conto anche di desiderata di Confindustria. Però la democrazia cristiana era sicuramente un partito in cui c'erano componenti, ne cito una, Tina Anselmi, Zaccagnini, ma lo stesso Moro, Fanfani, di cattolicesimo sociale, democratico, che insomma aveva l'idea, cito solo un personaggio, Enrico Mattei, insomma a me sembra che il PD non sia la nuova democrazia cristiana, ma che nasca dalla crisi sia della vecchia DC che del vecchio partito comunista, del vecchio partito socialista e da un mutamento di ragione sociale, perché tutti questi partiti erano comunque partiti eh popolari che avevano una fortissima impronta laddove non anticapitalista comunque keynesiana eh e anche una forte indipendenza dal potere economico eh ovviamente con tutti i defetti che c'erano in un sistema bloccato dalla guerra fredda come è stata la prima repubblica eh ma eh insomma si faceva gara eh nel dimostrare forse politiche capaci di fare politiche popolari eh tra l'altro io non condivido la narrazione per cui i giovani di oggi avrebbero problemi perché si siano spesi troppi soldi allora ehm teniamo al dunque però voi cosa volete fare? Per quanto riguarda noi se questa è l'analisi del PD per quanto riguarda noi noi cerchiamo di fare una cosa molto elementare eh noi pensiamo che tutte le forze di sinistra eh dovrebbero e ambientaliste dovrebbero unirsi in un polo rosso verde in Italia di alternativa sia al centrodestra sia al partito democratico che è un po' quello che era successo in passato c'era 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 provato la sinistra la sinistra arcobaleno mi ricordo la sinistra arcobaleno aveva alcuni difetti eh il primo eh era quello di di identificarsi con un'esperienza di governo sbagliata e fallimentare il secondo eh quello di essere apparso come un una mucchiata di partiti io faccio un altro esempio Unidas Podemos in Spagna ehm a proposito di comunisti i due ministri comunisti di Unidas Podemos eh hanno la tessera del partito comunista sono rappresentanti di Unidas Podemos dentro il quale ci sono varie formazioni politiche e mi pare che facciano grandi cose ora non vedo perché non si possa fare una cosa del genere in Italia io non credo che eh il fatto che noi ci diciamo comunisti sia un particolare problema visto che diciamo la parte di sinistra popolazione italiana o di centrosinistra per larga parte viene da quella storia eh ma non abbiamo nessun problema a unirci in un progetto che non implica che ci stanno dentro solo i comunisti a facevo l'esempio di Unidas Podemos ma eh ne potrei fare tanti altri eh in Italia in Europa o in America Latina purtroppo ci scontriamo con due altre tendenze presenti nella nostra area una è quella di stare attaccati come le cozze al partito democratico senza condizionarlo e che ci divide da altri partiti eh che ne so sinistra italiana e altri eh e dall'altro la tendenza ognuno a farsi un partito che poi non si allea con gli altri non si unifica eh e questa frammentazione produce eh debolezza toglie credibilità mentre su un su un programma unitario condiviso si potrebbe presentare un'alternativa al paese faccio presente che non ci sono solo le zero virgola al di là che ci sono città come Torino dove abbiamo preso il due e mezzo o a Milano l'uno e sei o a Bologna ma comunque non è che siano grandi risultati ma in Calabria essendo tutti insieme e coinvolgendo settori della società civile del volontariato dell'associazionismo con Luigi De Magistris con Mimmo Lucano complessivamente abbiamo preso il sedici virgola due per cento in alternativa sia alla destra che alla coalizione del PD io credo che sia un buon esempio di quello che potremmo fare in Italia con più unità e meno anche se poi il risultato è stato quello di consegnare la Calabria a forza Italia ma guarda questa cosa qui su questa cosa ci dobbiamo mettere d'accordo quando mi si chiede perché in Italia non c'è più una sinistra forte autonoma è per un semplice motivo perché c'è il bipolarismo il bipolarismo dà una rendita eh al partito democratico per cui tu non lo voti perché sei convintissimo dei suoi programmi e dei suoi dirigenti ma lo voti se non arriva l'uomo nero eh a nostro parere noi ci battemmo nel novantuno non solo contro lo scioglimento del PC ma anche contro l'introduzione della legge maggioritaria poi le fanno sempre fatte pure male perché non sono neanche un nominale all'inglese diciamo ma delle leggi mostro e incostituzionali e infatti vengono annullate dalla corte costituzionale poi ne rifanno uguali o peggio eh noi non crediamo nel bipolarismo in Calabria ci sono c'è stata l'alternanza tra centro-destra e centro-sinistra i risultati si si vedono e quindi noi ci siamo presentati in alternativa ai due poli responsabili della situazione che c'è in Calabria c'è un altro elemento che ci che va valorizzato e che si è perso cioè il valore dell'opposizione eh magari le persone che abbiamo mandato al Consiglio regionale della Calabria che sono persone competenti con una vita di passione civile e di impegno sociale alle spalle faranno delle battaglie dall'opposizione che saranno più utili eh ai calabresi eh dell'alternarsi di due poli eh che finora insomma hanno gareggiato in clientele eh e disastri eh anche in Italia il il problema italiano adesso e soprattutto non è quale governo visto che stanno tutti insieme al governo ma che qualcuno faccia un'opposizione forte che oggi non c'è nel paese perché sai senza eh un'opposizione non funziona neanche la democrazia allora il il ricatto che altrimenti vincono quegli altri eh a mio parere va assolutamente respinto anzi approfitto per ricordare che finché sono in tempo sarebbe bene che reintroducessero una legge proporzionale eh anche perché quasi tutti i paesi europei che ci dicono dobbiamo prendere come modello hanno leggi eh proporzionali e non mi pare insomma che altri sistemi abbiano funzionato eh molto bene eh quando introdussero il bipolarismo in Italia dissero che dovevamo prendere esempio della Gran Bretagna eh mi sembra che il sistema politico della Gran Bretagna sia piuttosto in crisi basta guardare i capelli di Boris Johnson e e quindi forse c'è da fare una riflessione perché anche questa storia che qualche che qualcuno può vincere e stravolgere la Costituzione è resa possibile dal sistema maggioritario perché con un sistema proporzionale quello che vollero i costituenti che ricordo furono quelli che il fascismo lo subirono lo combatterono eh lo sconfissero bene eh con sistema proporzionale la Costituzione può essere modificata solo con l'accordo di queste maggioranze ecco e si compete nell'attuare la Costituzione invece noi abbiamo da trent'anni due poli che competono nello scardinare la Costituzione che poi fanno su per giù le stesse politiche ecco perché ogni tanto fanno anche il governo insieme eh scoprendo di avere eh larghissime convergenze programmatiche sì ma ad esempio ipotizzo un premio di maggioranza per un certo io però scusami Umberto se parlo con una divisione no solo dire che la risposta non è che mi ha molto soddisfatto perché io ho chiesto cosa volete fare da grandi ho sentito ho ascoltato solo critiche vogliamo diventa grandi vogliamo diventa grandi cioè vorremmo almeno io spero eh riuscire a mettere insieme quelli che la mensano come noi e proporre un alternativa mi aspettavo anche non lo so un discorso proviamo a parlare con frato gli anni sinistra italiana no no aspetta ti ho già detto che noi proponiamo in Calabria eravamo insieme frato gli anni potere al popolo il pc mancava solo rizzo perché se non avrebbe fatto una lista diciamo alternativa anche a quella coalizione eravamo tutti insieme eh è quello che vorrei fare eh con frato gli anni con quei ottimi rapporti come con gli altri quasi tutti gli altri eh noi continuiamo a proporre eh questa via eh che non è la via dell'alleanza subalterna con il PD perché alla fine eh tutti quelli che sono usciti da rifondazione per fare partiti per allearsi colpiti colpiti allora non si chiamava manco PD col centro sinistra per spostarlo a sinistra non mi pare che abbiano prodotto risultati eh quindi il parlare con frato gli anni per me è attività normalissima così come parlare con i compagni di potere al popolo eravamo insieme alla manifestazione eh lanciata dal collettivo di fabbrica della GKN eh a Firenze il diciotto settembre non ho visto fra due anni ma c'erano eh i compagni di potere al popolo al corteo ai cortei lunedì eh che abbiamo fatto con i sindacati di base ci incontreremo almeno con una parte di loro alla manifestazione indetta dalla CGL sabato ci sono tantissimi punti programmatici e campagne che condividiamo quello che noi proponiamo è che di non essere divisi di essere uniti e soprattutto di di presentare uniti una proposta di alternativa al eh al paese Alberto che stavi dicendo? Sì vai tranquillo no allora cioè più che altro da livello di alternativa cioè a me sembra di sentire i discorsi che facevano Borghi, Bagnai, Savona ehm Maria Rinaldi nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sono gli stessi discorsi dal punto di vista economico cioè non riesco a capire dove sta la differenza? No credo che invece accada una cosa opposta nel 1992 noi abbiamo votato contro il trattato di Maastricht Sì ma questi dicono appunto no 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 ma a parte tutto però Borghi non era nella Lega La Lega anzi provisava che bisognava staccare il Nord dal Sud perché il Nord poteva stare nell'Alea e Euro e il Sud no. Sì sì ma aspetta un attimo io non ti sto dicendo la Lega nel 92 quando c'era Bossi alla guida cioè ci mancherebbe su quella avete due visioni completamente diverse io ti sto dicendo che differenza c'è tra quello che proponi tu in questo momento e quello che propongono questi altri individui che ti ho citato che sono entrati nella Lega dopo l'entrata di Salvini cioè dopo la presa di posizione di Salvini quindi cioè parlare dal 92 fino al 2014, 2015 secondo me ha poco senso io ti sto parlando dell'ultima campagna elettorale della Lega sulle politiche ovviamente il tipo di anti-europeismo della Lega non ha nulla a che fare con la nostra critica dell'Unione Europea noi siamo europeisti di sinistra non siamo contrari all'integrazione tra i paesi europei ci mancherebbe noi siamo contrari ai trattati come sono andati definendoci e pensiamo che lo spazio europeo sia lo spazio dentro il quale noi dobbiamo affermare delle logiche diverse da quelle dei trattati la Lega ha finto di essere con Borghi, Bagnè eccetera adesso mi pare che sono passati al Novax comunque di darsi un tocco antisistema con un discorso nazionalista io non capisco perché lo chiamino sovranista mentre noi abbiamo punti di vista completamente diversi lo si vede dalle tasse noi siamo per la patrimoniale per un sistema di tassazione fortemente progressivo loro sono per la flat tax noi siamo per la fila delle leggi sulla precarietà mentre loro probabilmente su questo piano sono anche più filoconfindustriali dello stesso partito democratico certo in Italia è accaduta una cosa molto pericolosa che è accaduta anche negli Stati Uniti cioè che la sconfitta nostra e la nostra invisibilità e il fatto che al governo ci fosse un partito democratico con un'impronta fortemente filopadronale ormai il partito democratico è percepito come un partito dell'establishment ha consentito alla Lega di presentarsi come partito sociale e acquisire una forte popolarità non solo con i temi più propriamente leghisti come l'antimmigrazione ma per esempio criticando una riforma come quella delle pensioni di Fornero che in qualche maniera ha trasformato Salvini in un difensore del popolo però questi sono spazi che vengono lasciati appunto da un approccio neoliberista la politica che ha avuto il PD cioè se chi per la gente rappresenta la sinistra non difende interessi popolari può accadere che delle forze che di sinistra non sono si presentino in quella veste la Lega ha proposto una soluzione che poi non ha perseguito quella dell'uscita dall'euro noi abbiamo sempre ritenuto che non sia una soluzione realistica per l'Italia e che fosse soltanto uno slogan semplificatorio agitato dalla Lega da Beppe Grillo adesso vedo che lo fa anche Rizzo e altri ma poi alla prova del 9 è scarsamente efficace riteniamo invece che sia più utile che sia nello spazio nazionale che nello spazio europeo ci si batta per modificare i trattati per disobbedire i trattati liberate bene ci dicevano che non si poteva fare poi è scoppiata la pandemia e lo hanno fatto gli stessi governi la stessa Unione Europea ha sospeso la validità dei trattati per alcune norme particolarmente irrazionali ma erano i trattati all'interno volevo far fare un'ultima domanda a Francesca poi dobbiamo chiudere che è molto bello però stiamo forse un po' divagando troppo no hai ragione no volevo chiedere semplicemente una cosa che poi lo accennava Ivan anche all'inizio del discorso dell'attacco che c'è stato alla CGL insomma tutta la manifestazione di Roma di sabato e quindi tutta la vicenda che riguarda la mozione promossa dal PD per lo scioglimento di Forza Nuova e volevo chiederti appunto se cosa ne pensi cioè se questa è una soluzione se è un primo passo se magari è rischioso sciogliere un partito per poi lasciarlo tra virgolette in clandestinità e quindi non poterlo controllare come si potrebbe sfruttare e risolvere questa vicenda guarda noi siamo favorivolissimi anzi chiediamo da anni siamo stati tra i primi a proporlo lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste anzi il PD porta finalmente questa proposta che dato che governa moltissimi anni poteva essere attuata molto prima perché gli elementi per applicare la norma transitoria della Costituzione e la legge scelba ci sono da un sacco di tempi anni fa abbiamo anche fatto una raccolta di firme con l'AMPI credo che raccogliamo un milione di firme a questo scopo dopo un fatto gravissimo in cui i capi di Forza Nuova dei sedicenti sconosciuti che forse erano riconducibili hanno guidato l'assalto alla più grande organizzazione democratica del nostro paese cioè al più grande sindacato dei lavoratori del nostro paese mi sembra un atto dovuto e anche molto in ritardo che il governo faccia un decreto di scioglimento di Forza Nuova e che la si smetta con la tolleranza verso queste organizzazioni altra cosa è invece pensare che ovviamente tutto si risolva soltanto dal punto di vista repressivo perché ripeto io penso che le politiche neoliberiste hanno creato una crisi sociale dagli Stati Uniti a tutti i paesi occidentali che favorisce il risorgere della demagogia fascista che poi cavalca i temi più diversi ed è anche una grande arma di distrazione di massa perché non ci se la prende con i miliardari ma ci se la prende con gli immigrati adesso ci se la prende con la presunta dittatura dei vaccini a volte con omosessuali lesbiche trans eccetera eccetera credo che riporteremo l'Italia e tutte le società europee a contrastare efficacemente questi fenomeni quando riaffermeremo politiche sociali molto forti che creino coesione nel paese e ridiano credibilità alle istituzioni democratiche c'è un libro bellissimo a mio parere si intitola Postdemocrazia di uno studioso inglese ma che insegna in Italia con l'incrocio non so bene come si pronuncia ma ve lo consiglio il che descrive la crisi delle nostre democrazie la loro incapacità e il fatto che non rispondono più a bisogni sociali diffusi ecco questa è una cosa che va affrontata a prescindere dallo scioglimento di forza nuova che è una cosa indispensabile e va fatta subito non ha nulla di illiberale e antidemocratico perché significa proteggere la democrazia e la costituzione quindi ma se Maurizio se noi la sciogliamo forza nuova cosa vieterà ai componenti di forza nuova di continuare a riunirsi e a fare quello che fanno anche senza presentarsi alle elezioni e questo è il punto non è solo presentarsi alle elezioni il problema vero è che forza nuova e gli estremisti stanno inserendo i loro uomini all'interno dei partiti più grossi l'abbiamo visto anche con fanpage non è il fatto che forza nuova si presenti alle elezioni forza nuova prende cento voti alle elezioni non c'è il rischio che forza nuova diventi il primo partito in Italia il rischio è che forza nuova così come altri partiti con componenti violente e non democratiche inseriscano i loro volti all'interno dei partiti diciamo più grossi e quindi io mi chiedo come mai la Lamorgese come mai la Questura la Prefettura non si muovano per indagare sotto questo punto di vista anzi mi viene da pensare che all'interno di queste di questi tre enti ci sia qualcuno a cui vada bene questa situazione ma guarda innanzitutto il processo di il rapporto tra alcuni partiti di destra c'è forza Fratelli d'Italia che poi in parte è anch'esso un partito neofascista dato che ha nel simbolo il simbolo dei neofascisti italiani storico insomma dopo la caduta del fascismo e dentro la Lega vengono candidati soggetti di questo genere però questo è un altro discorso intanto sanzioniamo il fatto che creare organizzazioni palesemente dichiaratamente neofasciste è illegale in questo paese forse poi si affermerà anche il fatto che candidarne esponenti delle liste è una cosa che non va fatta e non va tollerata invece qui è accaduto il contrario cioè è accaduto che i fascisti sono stati sdoganati è stato sdoganato abbastanza anche il fascismo nell'ultimo trentennio ma ci vorrebbe un'altra puntata abbiamo avuto addirittura la RAI che ha prodotto una fiction in cui praticamente sono i nazisti gli eroi e i liberatori ma si chiama Redland l'avrete vista ma di quella potete parlare con Eric Gobetti lo storico allora dicevo intanto sciogliamo queste organizzazioni e evitiamo che agiscano normalmente alla luce del sole come fanno da anni impunemente come se non costituisse un problema la loro propaganda poi c'è una battaglia da fare rispetto ai partiti che la proteggono su questo voglio dire una cosa però che a me pare che questi neofascisti siano anche molto utili per compattare l'opinione pubblica intorno al governo di turno lo dico con chiarezza io trovo vergognoso lo spazio che è stato dato dall'inizio della pandemia a tutte le manifestazioni più assurde quelle contro le masche perché ho cominciato contro le mascherine come segno di dittatura ed erano manifestazioni di pochissime persone hanno avuto una grande amplificazione e via discorrendo mentre ci sono tante lotte su temi serissimi in questo paese che sono normalmente completamente oscurate da media io ho la sensazione che questi figuri vengono amplificati al fine di di ricompattare tutta la gente di buonsenso di opinioni democratiche più di sinistra o meno moderate o più radicali intorno al governo insomma come io preferirei che intanto vengano messe fuori legge e anche sotto controllo perché mi pare che abbiano goduto invece di amplissima tolleranza anche dagli apparati dello Stato che voglio ricordare in Italia sono stati molto spesso funzionali a strategie di destabilizzazione della democrazia costituzionale e quindi non sarebbe una novità grazie mille Maurizio io purtroppo devo chiudere quindi ti dobbiamo salutare grazie a voi è stato un piacere alla prossima grazie Maurizio alla prossima grazie a voi ottime domande il miglior talk a cui ho partecipato grazie 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 mille arrivederci ciao ciao